Domenica 4 maggio Napoli torna ad essere la capitale dell'Ippica con la 65esima edizione del Gran Premio Lotteria Trofeo Teleton in programma all'Ippodromo di Agnano. Torna dunque alla sua storica collocazione primaverile la più antica ed amata competizione di trotto inserita come unica italiana nelle quattro prove europee valevoli per l'accesso alla finale dei master del trotto UET 2014 e dalla quale parteciperanno nomi di assoluto prestigio del trotto mondiale. L'Ippodromo così come rinasce oggi sia una vera eccellenza di Napoli. Ripeto un obiettivo che è stato raggiunto perché fortemente voluto sia da questa amministrazione sia dal coraggio di questi imprenditori direi anche dei lavoratori che hanno collaborato con questi imprenditori affinché questo progetto si realizzasse. L'individualismo non porta a nulla, il fare sistema, la condivisione di progetti vissuti, progettati e realizzati insieme può fare veramente centro. Ritengo che per i napoletani sia un momento molto importante rappresentato oggi dall'Ippodromo e fra poco anche dalla mostra d'Oltremare. Comunque tutte eccellenze che noi abbiamo e che dobbiamo far fruire e far conoscere ai cittadini napoletani. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in favore della fondazione Teleton. Molto fitto il programma di eventi per famiglie e bambini che prenderà il via venerdì e si concluderà con la finale la domenica alle 18.30. Straordinario ospite d'onore come lo scorso anno sarà Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi che farà il suo giro d'onore nella pista che lo ha visto trionfatore dal 2000 al 2002. È un evento che suggella questo messaggio, questa natura napoletana che è una natura che pensa allo sport, alla natura, allo spettacolo e alla solidarietà. Quindi diciamo suggella le tre caratteristiche e poi sono le caratteristiche che condivido io dal punto di vista morale. La sfidata di Varenne è uno dei pochi motivi per cui vale la pena un giorno di andare a vedere le corse. Perché la sfidata di Varenne innanzitutto Varenne è un cavallo irripetibile, sa perfettamente quello che fa, è un cavallo di un'intelligenza umana e la sfilata di Varenne col corteo di bambini vestiti da Pulcinella e la canzone di sottofondo della città di Pulcinella sono un qualcosa che rimane nella memoria di chiunque partecipa alla lotteria.